Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Cari amici, il libro sul sacerdozio scritto a quattro mani dal cardinale Sara e da Benedetto XVI ha provocato una cascata di smentite, precisazioni, rivelazioni in cui non è facile farsi un giudizio. Per capire i veri retroscena dell'affaire vi consiglio di ascoltare la voce di due eccellenti vaticanisti italiani che hanno rubriche su RadioRomaLibera, Marco Tosati e Aldo Maria Valli. Da parte mia ho scritto un articolo su Corrispondenza Romana che provo a sintetizzare. Per me il vero pasticcio è in realtà quello della innaturale coabitazione in Vaticano dei due papi, soprattutto quando uno di loro, Benedetto XVI, dopo aver rinunciato al pontificato conserva il nome di Benedetto, mantiene la veste bianca, impartisce la benedizione apostolica che è qualcosa che spetta solo al sommo pontefice e poi rompe più di una volta quel silenzio a cui si era votato che aveva annunciato dimettendosi. In una parola si considera ancora Papa, sia pure Emerito. Ma conservando il titolo di Papa Emerito, come avviene per i Vescovi, che quando lasciano il loro incarico diventano Vescovi Emeriti, conservando come i Vescovi questo titolo di Emerito, Benedetto XVI sembra ritenere che la ascesa al pontificato imprima sull'eletto un carattere indelebile, analogo a quello sacerdotale. Non è così, perché i gradi sacramentali del sacerdozio sono solo tre, non quattro. Il diaconato, che è il grado più basso, il presbiterato o sacerdozio nell'accezione comune del termine, che è il secondo grado, e poi il grado più alto l'episcopato. Il pontificato non è un quarto grado di questa linea ascensionale, ma appartiene a un'altra, a una diversa gerarchia della Chiesa, la gerarchia di giurisdizione o di governo. Il pontificato costituisce la sommità, l'apice, del governo della Chiesa. E quando viene eletto il Papa riceve questo ufficio, l'ufficio della suprema giurisdizione, del supremo governo della Chiesa, ma non riceve un sacramento dal carattere indelebile. Il sacerdozio non si perde mai, neanche con la morte. Chi è sacerdote lo resta in eternum. Invece si può perdere il pontificato, innanzitutto lo si perde con la morte, ma anche lo si può perdere in caso di volontaria rinuncia, è successo poche volte nella storia della Chiesa ed è mai successo, o di manifesta e notoria eresia, è un caso che i teologi prevedono. Se quindi il Papa rinuncia ad essere pontefice, si dimette diciamo, cessa di essere Papa, non ha più diritto a indossare la veste bianca, non ha più diritto a impartire la benedizione apostolica. Dal punto di vista canonico non è neanche più un cardinale, torna ad essere un semplice vescovo. Due importanti cardinali come il cardinale Walter Brandmüller e il cardinale Gerhard Müller affermano che Joseph Ratzinger non è neanche cardinale, è appunto un vescovo, a meno di non ritenere che la sua rinuncia sia invalida. Ma questo, naturalmente, deve essere provato. Di fatto, quello che accade oggi è che il titolo di Papa viene attribuito sia a Francesco che a Benedetto. Ma certamente, quello che è certo, è che uno di essi è abusivo, perché uno solo può essere il Papa nella Chiesa. La storia della Chiesa ha conosciuto, certamente, Papi e Antipapi, che si sono però combattuti tra di loro. Ognuno di essi scomunicava l'altro e la chiarezza imponeva delle scelte, come avvenne nel grande scisma di Occidente tra il XIV e il XV secolo, in cui tutta la cristianità era scomunicata, l'Europa era scomunicata o dall'uno o dall'altro Papa e quindi i fedeli erano costretti a prendere posizione, a scegliere un campo in cui trovarsi. Quello che non è mai accaduto è che due Papi si riconoscano entrambi come legittimi e manifestino reciprocamente, come oggi accade, rispetto e riverenza, salvo combattersi poi dietro le quinte per interposta persona. Per cui oggi c'è il partito di Francesco, il partito di Benedetto, ma questo avviene un poco dietro le quinte, cercare di metterli pubblicamente uno contro l'altro è un'impresa molto difficile, a mio parere, destinata al fallimento. Quel che è certo è che non c'è un Papa buono e un Papa cattivo. Non ci sono due Papi. C'è solo una grande confusione nella Chiesa, una confusione, purtroppo, destinata ad aumentare. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito